Buonasera a tutti, vediamo se finalmente riesco a pubblicare un video di Repilogo Serale a un orario più consolo, perché giustamente negli ultimi giorni uscire attorno alle 22 o anche poco dopo effettivamente non è il massimo della vita. Veniamo comunque a quanto è accaduto e a quanto sta accadendo oggi sui principali mercati europei e statunitensi. Se a livello di mercati europei potremmo quasi dire sempre la stessa solfa, sicuramente è piuttosto sorprendente l'andamento fortemente negativo, soprattutto di Nasdaq Composite e Nasdaq 100, ma anche di Standard & Poor's 500. Continua invece a correre il Dow Jones, anche oggi nuovi massimi storici e il Russell tocca nuovi massimi di periodo in intraday, ma adesso sta disegnando una candela, lo vedremo tra poco, che è una shooting star. Quindi siccome sono tanti gli argomenti che dobbiamo trattare nel video di questa sera, vi condivido subito lo schermo e andiamo subito a vedere quello che vi dicevo sul Dow Jones. Vedete, nuovo massimo storico a 41,211, adesso è ritracciato leggermente, ma non vedo ancora per il Dow nessun pericolo per una possibile correzione. Standard & Poor's 500 invece situazione decisamente peggiore perché apertura in gap down con un gap lasciato aperto sul minimo di ieri a 5.639 e quasi subito testata l'area di supporto. Il primo livello importante è 5.576, ha fatto 5.584, poi abbiamo 5.574 quindi 5.562. Nasdaq Composite, vedete che gap profondo il minimo di ieri è stato a 18.386, il massimo di oggi 18.223. Qui il rischio è decisamente piuttosto alto per un ritorno a 17.802, poi 17.657 quindi 17.494. Nasdaq 100, situazione ovviamente analoga, il gap lasciato aperto sul minimo di ieri è 20.266, obiettivi per le prossime sedute 19.741, 19.577, 19.4 e 72. Dax, ah scusate Russell 2000 facciamo, vi dicevo della shooting, vedete nuovo massimo di periodo 22.78, adesso però ritracciamento abbastanza importante, di conseguenza per le prossime sedute mi aspetto un training range compreso tra 298 e 2.278. Andiamo adesso al DAX, DAX a Merino, minimo 18.347, chiusura 18.437, direi che al momento l'ipotesi più probabile è che continui a muoversi nel training range compreso tra 18.213 e 18.779. Caccarant spinning top con un segnale oggettivamente di neutralità perché il massimo intraday è stato 7.603 sui livelli più o meno del massimo di ieri ma non è riuscito il Caccarant a chiudere il gap lasciato aperto a 7.618 sul minimo di lunedì. Quindi rimane ancora l'ampio training range compreso tra 7.464 e 7.746. Eurostoxx 50 invece soffre decisamente di più, ritengo che possa a questo punto tornare a 4.8 e 69, poi 4.8 e 37, quindi 4.8 e 19. Vediamo l'Eurostoxx banks che invece va a fare un massimo a 144.35, chiusura a 143.82, obiettivo direi 144.84, 146.33. Fuzzimib futures nonostante le difficoltà vedete che continua a tenere questa rialzista partita dal minimo del 14 giugno, volevo guardare i contratti in tempo reale, oggi sono un po' più alti della media perché siamo poco sotto i 12.800, per me c'è ancora ripeto la possibilità di tornare a 30, beh il primo livello è 34.8, poi 35.030, 35.245 massimo 20 di maggio. Mid cap sta facendo un po' più fatica rispetto a quello che abbiamo visto per il Russell 2000, però il 3D range 47.992, 48.968 potrebbe assolutamente tenere per diverse sedute. Vale lo stesso discorso anche per l'indice Star, per il nostro Fuzzistar 47.6 e 70, 48.5 e 63. A livello di volumi continuiamo più o meno a essere sul solito livello, già visto ieri attorno ai 2 miliardi di Euro, prima delle aste vi do il dato preciso che mi ha mandato come al solito Renato, 1 miliardo 595 milioni, esatto. Veniamo adesso ai titoli che hanno fatto meglio e quelli che hanno fatto peggio a livello di Fuzzimib, cominciamo con A2A, il segnale di A2A mi ha un po' sorpreso perché è vero che il titolo non aveva perso il minimo di periodo del 17 giugno 1,8, 1,85, ma ripartire così dal nulla e andare a superare nettamente la media mobile a 50, 1,9077 con massimo intraday a 1,926 e chiusura a 1,918 non era così facilmente prevedibile. Primo obiettivo a questo punto per A2A è 1,937, poi 1,994, 1,9985 massimo dello scorso 5 giugno. Continua e io ne sono ben felice però perché ho il titolo nel mio portafoglio di medio lungo periodo, buon andamento di ricordati, chiude oltretutto sui massimi di giornata a 51,75, primo obiettivo 52,35 poi massimo 24 di aprile 53,4. Come vi avevo detto ho inserito nel mio portafoglio di medio lungo periodo lunedì Stellantis, oggi mi è mancato la conferma definitiva per una prosecuzione al rialzo e sarebbe stata una chiusura giornaliera superiore a 18,726, però io sono ancora piuttosto fiducioso per un ritorno prima a 19,54, la media mobile a 50, 19,61, poi abbiamo 20,205 massimo del 13 giugno, ma potrebbe anche raggiungere la media mobile a 200, ovvero 21,00, quindi 21 Euro. Eni, Candela peraltro Inside, questo minimo di ieri a 13,96 ha tenuto, io non posso ancora considerare il titolo fuori pericolo, magari non dovrebbe tornare a 13,48,4, però dobbiamo considerare l'ipotesi di un ritorno possibile fino al minimo del 19 giugno 13,81, però se tiene il minimo di ieri almeno un 3D range 13,96, 14,436, 14,474 potrebbe anche riuscire a tenerlo. Era abbastanza bene perché tiene la media mobile a 100, 3,31,2 chiude a 3,34, respinta sostanzialmente dalla media mobile a 50, 3,35, obiettivi per le prossime sedute 3,38,8, 3,43,2 e quindi 3,45,4 che è il massimo sia del 13 di giugno che dell'11 di giugno. Telecom Italia, continuo a vedere un grafico costruttivo, può tornare sul massimo di breve 0,24,47, poi c'è 0,24,83, 0,25,2 e poco sopra la media mobile a 200 che è 0,25 e 0,28. Tra i titoli che si sono mossi in positivo oggi c'è anche Saipem che continua a fare il filo ai massimi di periodo di 2,45 e quindi potrebbe ancora andare a breccarli e poi non perché è un altro titolo che ho messo nel mio portafoglio di medio e lungo periodo, mi sembra che anche se il segnale non è ancora chiaro ci sia un tentativo, anzi possiamo anche tracciare questa ribassista qui per far vedere proprio che oggi ha respinto, un tentativo di rimbalzo per Campari ci può tranquillamente essere, con primo obiettivo 8,736, poi 8,916, quindi 8,958, 9,024. Andiamo a vedere le situazioni un po' più delicate e ce ne sono alcune che lo sono particolarmente. Innanzitutto Leonardo oggi devo dire che non dà un segnale molto positivo perché chiude sui minimi di giornata a 22,81 proprio sulla media mobile a 50, per cui quantomeno le veleità di tornare sui massimi di periodo sono venute a mio avviso meno, scusate il gioco di parole, probabile tra il range 22,18, 23 e 55. Brutta seduta anche di Iveco, io ho voluto ancora mantenere la posizione, anche oggi non ho chiuso scientemente nulla, perché non ho visto rotture anche, lo vedremo tra poco, su Brunello Cucinelli così devastanti, per cui dico mi perde 10 euro in tre sedute, quindi c'è ancora qualche flebile possibilità, quantomeno di rimbalzo. Alert su Iveco 11,09, minimo 12 di luglio, e media mobile a 50, 11,067. Vedete Brunello Cucinelli? Alla fine fa una candela in sight. Se domani mi accelera ancora a ribasso, probabilmente chiuderò. Però ho voluto provare a tenere perché, per esempio, guardavo, considerate che è international qui, però i prezzi seguono, che, per esempio, Kering i minimi non me li ha persi, che Louis Vuitton l'ammerino dai minimi l'ha fatto, poi vedremo tra poco anche Montclair, per cui, secondo me, avendo nel quantità votivo giusto, io ho solo 500 pezzi di Brunello Cucinelli, si può provare a rischiare almeno il titolo fino a domani. Si poteva rischiare. Prismian è in 3D range in area di massimi storici, 60.7, 62.8. Se non erro, anche questa mattina è arrivata la solita alzata di target, forse era di giudizio questa volta, fatemi vedere. Goldman Sachs ha riavviato la copertura con una raccomandazione buy. Quindi diciamo che vale un po' quello che vi ho detto già per Saipen, sono titoli che hanno il mercato dalla loro parte. Ferrari, Ferrari facendo parte a pieno titolo del settore lusso, ci può stare che venga un po' giù. Oggi perde la media mobile a 100, 388.17, chiude poco sotto la media mobile a 50, 385.7, chiusura a 385.4, obiettivo a 375.8, minimo 2 di luglio, poi direi 372.2, minimo 30 di maggio. Pirelli, nonostante la quasi Marubozzo Black, rimane in trading range tra 559 e 577.4. Amplifon, ecco, anche Amplifon voglio giocarmela fino in fondo, perché la discesa odierna è dovuta più che altro al mini profit warning di questa danese Demant, attiva anch'essa nel segmento degli apparecchi acustici, che ha rivisto a ribasso le stime sulla crescita dell'utile, a seguito dell'andamento debole, la domanda della prima parte dell'anno. Credo che allalgerò il mio stop a 29,18. però giorno per giorno Viterno ovviamente aggiornati. Facciamo ancora Montepaschi, che però rimane ampiamente nel trading range, peraltro abbastanza stretto, questo ovvero 481.2, 5,078, per cui non ci sono particolari segnali per quanto riguarda Montepaschi. Andiamo fuori dal Fuzzimib e dobbiamo ovviamente iniziare da Unieuro. Io vi chiedo scusa perché sono due giorni, di nuovo che non riesco proprio materialmente ad avere il tempo di rispondere ai vostri messaggi, ai vostri commenti, e mi dispiace molto, cercate di cogliere il più possibile dai video. Domani dovrei riuscire, perché ho sistemato alcune questioni extra borsa, però cerco di leggere sempre. Mi pare che mi chiedeste se Unieuro era da comprare, nonostante il più 40% odierno, e non è una domanda così peregrina, perché la notizia c'è, l'abbiamo commentata questa mattina, c'è questa offerta che vede parte in denaro e parte in azioni di Fnac e bisogna riconoscere che il titolo si è subito adeguato. L'offerta complessiva in Euro mi pare siamo sui 240 milioni, fatemi 249 milioni. Io vi dico la verità, se non fosse che c'è la componente scambio azionario, è un'operazione che io non condivido più di tanto, perché Unieuro è un'azienda che fa tantissima fatica a marginare. Quindi è vero che Fnac capitalizza più di 800 milioni di euro, anche se oggi scendeva, però io credo che quando si fanno acquisizioni così a premio come quella che cito più spesso è quella di Richmond con Yux, e l'ho citato anche questa mattina, perché è vero che quando tu hai vinto parla il risultato finale per te. Stamattina vi ho detto che Federico Marchetti è stato molto fortunato, lo confermo. Perché è stato molto fortunato? Perché è stato bravissimo a creare Yux, ma è stato molto fortunato che ha trovato in Liguria diremmo un belinone, che è l'amministratore delegato di Richmond, che ha strapagato Yux, salvo poi due o tre anni dopo svalutare per 1,8 miliardi di investimento. Quindi nella domanda si parlava di rilancio, a me sembra già un'ottima offerta questa, considerando le marginalità quasi assenti rispetto al fatturato, perché credo che stiamo meno di una GDO alimentare. Quindi vabbè, comunque bene per chi aveva il titolo, aspettarsi anche un rilancio mi sembrerebbe un po' difficile. Ecco, mi ero, perché purtroppo sono un po' più impiato del solito, in questi giorni mi ero proprio perso Giglio. Magari c'era una notizia, se lo scrivete nei commenti a favore della community, comunque bella Marbozu White, 0,337, 0,40, superata media mobile a 50, 0,3822, media mobile a 100, 0,3934, obiettivo in area 0,43, e poi media mobile a 200, ovvero 0,4425. Nuovamente ricoperture su Eviso, seconda seduta consecutiva di rialzo, un'altra Marbozu White, 4,68504, primo obiettivo, la media mobile a 50, 5,185, poi abbiamo area 5,20, potrebbe arrivare fino a 5,48, massimo 24 di giugno. Seppur con pochi volumi, oggi è stata comprata Farmacosmo, Long White massimo 0,78, chiusura 0,752, obiettivo a 0,81,8, poco sopra c'è media mobile a 50, 0,82 e mezzo, media mobile a 200, 0,84 e mezzo. Fincantieri, grande protagonista, oggi quasi Marbozu White perfetta, 483,3, 5,166. La mia impressione è che il titolo possa fare addirittura il numero, che significa tornare prima sulla media mobile a 50, 5,45,4, media mobile a 200, 5,57,8, massimo 13 di giugno, 5,61. Questo, intendo dire, vista la candela di oggi, la rottura della ribassista, dico il numero, intendo dire, che potrebbe fare anche in due sedute un movimento del genere. Però mi dà proprio l'idea che sia una situazione simile a quella di Saipem e Paschi dopo aumento di capitale. Ulisse, attenzione perché è un bel rimbalzo, Marbozu White 0,98, 1,04, titolo pericolosissimo per svariati motivi e perché scambia molto poco, però fino a 1,07, media mobile a 50, 1,11, poi 1,15 massimo 24 di giugno, potrebbe tranquillamente arrivarci. Di banca sistema, ve l'avevo già detto, negli scorsi giorni, titolo è quasi arrivato a target, target 1,72,8 massimo 17 di maggio, vediamo se dovesse, mettiamo però un settimanale, anche se poi c'è il gap che è meglio vederlo sul giornaliero, però così si vede bene dove può arrivare il titolo. Direi che l'obiettivo di questo movimento potrebbe essere fino a 1,854 massimo, la spin top su time frame settimanale della seconda settimana di febbraio del 2023. Andiamo a vedere assieme anche il gap, lasciato aperto a, no, l'ha già chiuso, scusate, l'ha chiuso, pensavo che fosse un gap, fatemi vedere bene, no, 1,74, c'è un gap a 1,74, ecco, quello è un bel attrattore. Poi mi fa piacere, perché ne avevamo parlato, che finalmente vedo dei segni di risveglio per Ariston, primo obiettivo potrebbe essere 4,38, la media mobile a 50, e 4,42,3, poi c'è il massimo del 13 giugno, che è 4,52,4. Per vedere che oggi me l'ero persa, guardiamo un attimo Edes, perché al di là della long wide 0,23,2, chiusura 0,22, l'idea è che possa tornare almeno 0,24,8, massimi di periodo 0,25,6, titolo molto interessante, devo dire, Bellini bene, però i volumi purtroppo sono davvero molto bassi, anche qui long wide massimo 3,40, chiusura a 3,30, prossimi obiettivi 3,48, poi massimo del 21 di giugno 3,62. Attenzione a Comer Industries, perché a me è un'azienda che piace tantissimo, vedete che bella Marbozo White, 33,9, 35,3, andiamo subito a vedere, perché ormai siamo in vista dei massimi storici, di 37 euro seconda settimana di aprile del 2023, quindi molto, molto bene Comer Industries. Karel, Karel sta provando a tenere i minimi di periodo, io nonostante le difficoltà, credo che sia pronta per un rimbalzo, oggi supera la media mobile a 50, 17,636, primo obiettivo 18,06, poi abbiamo 18,44, 18,62, quindi media mobile a 100, 18,73. Giornata positiva anche per Doverio, Doverio fa peraltro una spinning top, massimo intraday 2,11,2, chiusura 2,09, obiettivi 2,20, 2,22,2, poi massimo 10 di giugno 2,25. Altro titolo che ho nel mio portafoglio di medio-lungo periodo, ve l'avevo già detto, Elen, e mi sembra che finalmente sia la volta buona per un'accelerazione al rialzo. Il primo obiettivo credo che possa essere 10,15, 10,19, poco sopra c'è la media mobile a 110,23,2, poi abbiamo 10,51 e 10,69, massimo 16 di maggio. Mi fermo perché poi il gap lasciato aperto sul minimo del 15 di maggio è 11,40 e oggettivamente è un target un po' troppo ambizioso. Concludo i migliori al di fuori del Fuzzimib con Acea, perché è vero che continua a stare nel trading range, compreso tra 14,82 e 16,02, però si avvicina alla parte alta dello stesso, la media mobile a 100 è attorno a 15,90, oggi ha fatto un massimo a 15,88, poi c'è il 16,02 massimo 11 di luglio, ma sopra si va direttamente sulla media mobile a 50, 16,23, quindi gap da chiudere sul minimo del 21 di giugno, 16,31. Andiamo invece adesso al di fuori del Fuzzimib per quanto riguarda i peggiori. Allora, andiamo a vedere sicuramente SOS Travel. Io credo che il problema di oggi con un pessimo segnale, rottura della media mobile a 200, ha perso più del 10%, sia l'illiquidità del titolo, perché alla fine ha scambiato meno di 100 mila Euro di controvalore e purtroppo il titolo ha chiuso proprio sui minimi in giornata a 1,10, c'è un target a 1,015 e poi a 0,99. Credo che se tornasse in area 1 diventerebbe un titolo da value investing, questo è quello che penso. Poi, tecnoprobe, al di là dei problemi di cui avrete sicuramente sentito dei chip, come dire, oggi scendiamo perché scende molto invidia, c'è stata ASML che è letteralmente crollata dopo i dati sul mercato olandese, tecnoprobe io non me la continuo a spiegare a questi prezzi per i multipli a cui è prezzata, ottima azienda, ma se la pago 40 volte gli utili, devo dire che una sopravvalutazione sui fondamentali è abbastanza palese. Poi, dopo la discesa di oggi, quasi Marubozzo Black, 9,32, 8,82 e mezzo, media mobile a 108,74, quindi 8,55, 8,55 e mezzo. Ecco, l'illiquidità del mercato la vediamo per esempio in una situazione come Esautomotion, perché Esautomotion aveva fatto il super rally il 12 luglio da più 19%, oggi perde già la media mobile a 200, 4,12, giudice su minimi di giornata a 4,03. La salita l'aveva fatta con 37 mila pezzi, che non erano neanche tantissimi, oggi mi fa meno 4,28 con 6,500 pezzi, quindi è abbastanza complicata la situazione. In tanti mi avete scritto anche privatamente per Olidata io ribadisco quello che ho risposto a chi mi ha scritto. Situazione critica, nuovo minimo di breve a 0,55,1 chiusura a 0,55,9 almeno la chiusura gap se ho tenuto fin adesso il titolo l'aspetterei che è 0,525 massimo 22 di gennaio, in cui la stessa seduta ha fatto 0,51 poi c'è questo minimo dell'11 dicembre che è 0,49,2 Arterra Arterra credo che stia iniziando una fase correttiva primo obiettivo in area 2 poi media mobile a 101,98,6 quindi area 1,90 ecco attenzione ad Antares perché io sono come vi avevo già comunicato avevo chiuso la posizione già da tempo e adesso sembra che quest'area di resistenza area 3,40 stia facendo veramente fatica a superarla oggi fa una Marubozu Black con range stretto 3,39,3,30 poco sotto c'è la media mobile a 50 3,25,5 però potrebbe tornare anche fino al minimo il 28 di giugno 3,1,15 neospirience ve la voglio far vedere perché continua a essere sui minimi e finché non li perde è un titolo che si può mantenere però vedete che il minimo storico di 1,28 che è stato toccato nel 17 giugno è sempre molto molto vicino Eurogroup Lamination Eurogroup Lamination direi che al di là del fatto che ieri ha fatto quasi una Dragonfly dopo un minimo a 3,92 2 chiusura a 4,082 la vedo in realtà con maggiori probabilità indirizzata a 3,86 poi 3,74 3,71 avendo la media mobile a 200 a 3,706 BC Speaker ecco BC Speaker ha scambiato un po' più del solito BC Speaker oggi ha fatto una spinning top massimo 16,2 chiusura 15,70 direi che potrebbe arrivare fino a 15,35 15,15 ma non più giù sto continuando a tenere d'amico però ovviamente se dovesse perdermi 6,96 dovrò chiudermi per adesso trading range 6,96 7,70 sono sorpreso dalla debolezza di Sogefi nelle ultime sedute perché c'è il dividendo straordinario lunedì l'obiettivo 3,105 e poi le medie mobili a 100 3,047 a 50 3,035 digital value digital value è sicuramente in una fase di correzione primo obiettivo questo minimo del 2 di maggio 56,9 la media mobile a 256,85 poi abbiamo 55,1 54,3 quindi minimo 22 di aprile 53,8 ecco Altea Altea dobbiamo occuparcene un po' più in profondità perché sono usciti i dati vediamo qua dovrebbe essere ecco tra l'altro c'è il progetto di andare praticamente nell'MTA che adesso si chiama Euronext Milan allora anche allo Star forse aspettate un attimo vogliamo andare allo Star meglio ancora dati mi sono piaciuti perché valore della produzione è 13,5 14 da 10,1 e mi dà 7,5 barotto da 5,2 e mi dà margine altissimo c'è ancora un po' di debito ma è stato ridotto a 1,3 milioni da 4,4 a questo punto non mi spiego molto le vendite odierne questi dati a mio avviso potrebbero anche riportare il titolo fino in area 8,50 comunque vedremo non è che io voglia ritrattare se domani accadrà diversamente i dati a me sono sembrati buoni dipende sempre da come li prende il mercato questo è un un'affermazione incontrovertibile Digital Bros ieri aveva rimbalzato oggi va a fare un minimo 8,92 praticamente sulla media mobile a 100 però non vi nascondo che a mio avviso il titolo può tornare ancora a 9,50 e poi sulla media mobile a 200 che è 9,71 De Longhi De Longhi oggi fa un engulfi in Birish quindi è probabile che vada a ritestare nei prossimi istituti la media mobile a 50 a 31,79 poi quella a 100 31,42 quindi il minimo del 4 giuglio 31,08 Seri Industrial qui siamo ancora in un trading range che io comprenderei tra 3,93 e 4,38 completiamo il quadro con prima Buzzi che comunque rimane in trading range direi adesso 36,36 38,58 e poi con Reply Reply sembra voglia iniziare una fase di correzione primo obiettivo la media mobile a 50 135,8 poi 134,7 132,2 la media mobile a 131,65 poi c'è questo minimo importante del 12 giugno 130,4 con questo ho concluso se il montaggio non creerà problemi avrete finalmente il video un'ora prima rispetto alle ultime giornate auguro a tutti una buona serata vi aspetto domattina prima dell'apertura del mercato di euro per la prima di di